Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale di One Piece e Massimo Esperti da Katakuri. Oggi parleremo di una nuova videoteoria di Joy Boy, il primo possessore del cappello di paglia. Questo video sarà strettamente collegato a quello precedente, ossia la volontà dell'AD. Guardandoli insieme avrete un quadro completo di tutto il discorso. Joy Boy, ispirata ad una Shimataro, un personaggio storico e leggendario giapponese di cui abbiamo fatto una ricerca. Ma chi era? Lo vedremo più avanti. Nel frattempo andiamo con ordine e partiamo con le informazioni in nostro possesso attraverso il manga di Joy Boy. Era un uomo che viveva in superficie e che ha avuto un ruolo molto importante nella storia di Fishman Island. È stato menzionato per la prima volta sui Pogne Griff di Ryugu, letto da Nico Robin, mentre si trovava nella foresta del male. Nel capitolo 628, episodio 548. Quello era Pogne Griff con le scuse di Joy Boy per aver rotto la promessa. Circa 800-900 anni fa, i residenti di Fishman Island e Joy Boy si fecero quindi una promessa reciproca. Joy Boy tentò di proteggere la Noah per poi portarlo in superficie, in futuro. Fuori dall'isola degli uomini pesce, con l'aiuto di chi? Di Poseidon. Ma non mantenne questa promessa a Fishman Island. Tuttavia, gli uomini pesce promisero che avrebbero tenuto la Noah al sicuro, fino a quando sarebbe arrivato un certo giorno. La metà della promessa di Fishman Island è stata quasi infranta, quando Monk e D. Luffy, a costo di proteggere l'isola, a prescindere da cosa sarebbe successo, stava per distruggere la Noah con una serie di elefante catteling. Naturalmente, prima che Luffy potesse distruggere la Noah, il re dei mari, che furono chiamati consapevolmente da Poseidon da Shiraoshi, riuscirono a fermarlo e quindi alla fine non fu distrutta completamente. Questo fece sì che la promessa di Joy Boy non fosse infranta con gli uomini pesce. Tuttavia, la nave, che era ancora gravemente danneggiata, fu poi portata al re dei mari nel cimitero delle Litte, che sappiamo lì vicino alla foresta sommersa. Naturalmente, questo ha fatto sì che Luffy, in futuro, possa tornare e mantenere e completare la promessa di Joy Boy, cioè portare gli uomini pesce, grazie a Poseidon e alla Noah, in superficie, che è anche il sogno che aveva Shiraoshi, anche se già è venuto in parte, quando è stata Mary Joyce. Ma questa sarà una promessa legata non solo alla principessa, che è anche Poseidon, ma soprattutto a tutti gli abitanti dell'isola degli uomini pesce. Dopo questa sintesi, passiamo al riferimento storico. Allora, parliamo di una delle storie mitologiche più famose del Giappone, dove si narra di un uomo di nome Urashima Taro, che viveva in un villaggio di pescatori. Era dotato di una grande forza e mal sopportava le ingiustizie, infatti difendeva sempre i più deboli. Un giorno, mentre passeggiava in riva di una spiaggia, vide da lontano un gruppo di ragazzi, che stavano giocando con una grande tartarulla, ma si rese conto che i ragazzi la stavano infastidendo, impedendogli di prendere in mano. Si avvicinò a loro, intimandogli di lasciarlo in pace, ma per tutta risposto i ragazzi continuarono a fare del male alla tartarulla. Così il pescatore, di lavoro delle monete, ed essi, prese il denaro, andarono via, lasciando in pace la tartarulla. Urashima Taro, allora, si avvicinò e la aiutò a tornare in mare. Ed essa, prima di tuffarsi nelle acque, ringraziò quel giovane, contento della sua azione, poi se ne andò verso casa. Dopo alcuni giorni, mentre era su una barca, udì una voce che lo chiamava, ma non vedendo nessuno, notò che la voce proveniva dall'acqua. Così si accorse di una tartaruga, che gli comunicò che il potente Ryujin aveva saputo del suo gesto e che quindi voleva conoscerlo. Urashima Taro, apparve impaurito inizialmente, ma rassicurato poi dalla tartaruga, sale in groppa e incominciò ad inavvistarsi. Sorprendentemente, però, non solo Urashima non stava annegando, ma addirittura l'acqua non gli dava alcun fastidio e addirittura respirava senza problemi, potendo ammirare quindi le profondità del mare. La tartaruga si inavvistava sempre di più, finché non si fermò di fronte al maestoso Ryuguyo, cioè la residenza del re del mare, proprio lui. Il palazzo aveva i tetti dalla punta realzata, ricoperti di maioliche verdi e ornati di conchiglie sgargianti. Entrato nella sala del trono, fu accolto da tutte le creature marine che si inchinarono davanti a lui. Il potente Ryujin, che era enorme e ci ricorda il re Neltune One Piece, si alzò dal trono e si diresse verso il pescatore per ringraziarlo per ciò che aveva fatto e lo invitò a restare con lui, con la principessa Toime e con tutte le creature marine. Durante il ricevimento, Ryujin consegnò nelle mani di Urashima Taro il Tama Tebago, come segno di stima nei suoi confronti, ma lo scrigno non doveva essere aperto per nessun motivo. Dopo un po' di tempo, passato circa tre anni, il pescatore incominciò a sentire la mancanza della sua casa, dei suoi genitori e della vita che conduceva sulla terra, ma più di tutto sentiva anche la mancanza della sua innamorata. Alla notizia, Ryujin rimase molto dispiaciuto, perché voleva che il giovane pescatore rimanesse lì con loro per sempre, ma consegnò ad Urashima Taro il Tama Tebago e ordinò quindi alla tartaruga di riaccompagnarlo a casa. Una volta arrivati in superficie, la tartaruga, molto dispiaciuta, salutò il suo amico e scomparve per sempre. Urashima Taro si ritrovò da solo in riva al mare. Durante il suo cammino però rimase svolardito di una cosa, nel vedere che tutto era profondamente cambiato. Sconvolto da quanto aveva visto e sentito, si recò in riva al mare e con la testa ancora confusa decise di rompere la promessa fatta al re e aprì il Tama Tebago. Alla sua apertura fu avvolto da una nuvola di fumo bianco ed improvvisamente divenne vecchissimo. Solo in quel momento lui si rese conto che Ryujin gli aveva donato l'eterna giovinezza e che quindi lo scrigno conteneva la sua verità. Pentito dalla sua scelta, si rese conto che sarebbe rimasto vecchio per sempre. Esistono inoltre altre versioni in cui all'apertura dello scrigno il protagonista Urashima Taro muore invecchianto di centinaia di anni in pochissimi minuti. L'approfondamento storico è finito, quindi andiamo a ricollegare un pochettino le informazioni appena esplicate da Katakuri con quello che è il manga di One Piece. Questa storia che ci ha fatto pensare molto a Joy Boy e questo legame con Urashima Taro, a cosa lo leghiamo? Agli uomini pesce, che lui comunque era un pescatore, questo rimando qui c'è anche addirittura al famosissimo Sanpei, ma quasi sicuramente Joy Boy appartenendo all'Antico Regno, ci potrebbe essere stato un legame naturalmente con l'editore che sappiamo provenisse da 800 anni nel passato. La questione che ci ricorda anche un po' lui che aiuta Urashima Taro e quindi Joy Boy che aiuta la tartaruga, un pochettino Oden che diciamo trova sulla costa Nekomamushi, Noarashi e anche il giovane Kawamatsu. Inoltre, possiamo parlare del fatto che va sott'acqua e respira comunque. Quindi vi ricordate le bolle per respirare di Rufy e gli altri? Il palazzo del re Drago di Fishman Island, naturalmente il re Ryu che dovrebbe essere il re Nettuno e tutti i collegamenti che ci sono. La principessa che dall'epoca era la regina Otoime, il Tama Tebaco che è lo scrigno che noi sappiamo che però venne regalato a Rufy che Rufy proprio a sua big mamma conteneva una bomba, però in realtà all'inizio era un tesoro anche se lì conteneva l'età sua per non farlo invecchiare. per non farlo morire, tra virgolette. L'ultima cosa, possiamo parlare del cappello di paglia, questo simbolo della trasmigrazione. Lui è stato veramente il primo possessore, il G-Boy, è passato poi nei secoli fino ad arrivare a Roger. Da Roger in poi che ha scoperto tutto quello che ha scoperto è passato a Shanks e infine a Rufy che porterà a compimento tutto questo arco narrativo completando il One Piece e collegando tutte le razze, tra cui quello degli uomini pesce. Quindi il cappello di paglia è visto come un simbolo trasmigrato, ma soprattutto in una figura di umiltà, perché come sappiamo nella leggenda il cappello di paglia era donato ai pescatori. Noi pensiamo infatti che Joey Boy, il primo possessore del cappello di paglia, quello che magari si trova a Mary Joyce, proprio quello, sia stato il suo e quindi lui fosse in origine un pescatore. Questo anche per la questione della volontà dell'Adi. probabilmente veniva anche dall'antico regno Joey Boy. Una cosa molto importante ricollegandoci adesso all'ultimo capitolo che abbiamo letto, gli ultimi due soprattutto, ma l'ultimo, quello più importante, all'arrivo all'Hawg Tale, l'ultima isola dove si trova il One Piece, il nome è dato dal grandissimo Gold Roger, quando leggono l'ultimo ogni griffa la storia di Joey Boy dice molto divertente Joey Boy, ti sei lasciato ridere tutto questo tesoro, incredibile, avrei avuto a vivere nella tua stessa epoca, chissà quante grandi cose, E tutti quanti che ridono. Quindi lì ci fa capire una cosa molto importante che l'umiltà è al primo posto, questa risata contagiosa per tutti e che Joey Boy doveva essere veramente un uomo dagli umili modi, ma molto molto determinato a compiere una profezia, a compiere una promessa che purtroppo non è riuscito a fare, ma l'ha portata per le generazioni successive, tra cui quello che la porterà a compimento veramente, colui che riuscirà a farsi carico del peso del mondo. Per questo abbiamo detto che questo video è collegato a quello precedente della volontà della D, perché se li vedete insieme prima quello della volontà e poi questo avete un quadro completo di quello che può essere la volontà trasmigrata nelle generazioni future. Quindi è importante anche, come abbiamo detto, la lettera di scuse che Joey Boy fece alla principessa perché non riuscì a compiere la sua promessa. Importante anche che il tesoro che si trova ad Augtel, Raptel, come preferite, sia stato portato lì da Joey Boy. Poi non credo Roger l'abbia preso, però Roger con la sua diciamo morte lì sul palco, lì, ha fatto una cosa grandiosa, ha fatto sì che partisse la nuova era della pirateria dicendo il mio tesoro lo ha lasciato dire in un certo posto, se volete cercatelo, chissà di voi chi lo troverà. E al suo interno è racchiuso di ciò che è di più importante che c'è nel mondo. E grazie a questa, alcuni hanno detto bugia, ma grazie a questa cosa perché essendo dei pirati chi lo trova diventa solo il tesoro, grazie a questo Roger ha fatto sì che nella nuova era, nella nuova generazione potesse esserci chi portava a compimento la promessa che purtroppo Roger non ha voluto completare nemmeno lui per una questione di tempistica, come sapete Gold Roger ha i giorni contati e solo grazie a Crocus è riuscito a vivere di più. Detto questo il video è finito, l'approfondimento storico, la teoria con legamenti fatti da me ma soprattutto da Katakuri Suar, fateci sapere come sempre voi cosa ne pensate qui nei commenti se vi è piaciuta se non vi è piaciuta se pensate altre cose in più ricordatevi di ripassare dalla pagina Facebook One Piece Massimi Esperti Italia dall'altra dove trattiamo tutti gli altri manga, anime, film di aminazione eccetera eccetera cioè One Piece Massimi Esperti e tanto altro dal nostro account Instagram sempre Roald210k e poi da Youtube come sempre se non siete ancora iscritti se siete nuovi seguiteci anche nelle live e non solo grazie a tutti i pirati alla prossima viva One Piece viva One Piece Massimi Esperti Anf Mallet usando la squadra vomito che'i chiamato vagabal Grazie a tutti.